Cari amici di Auto Occasioni, ben ritrovati, oggi full immersion direttamente nella sede Autos Centro Forstor di Moncalieri, Corso Savona 39, siamo in casa Ford naturalmente, guidati come sempre dal nostro amico Mirko Trapani. Ciao, ben ritrovato. Ciao Palma e ciao a tutti quanti voi. Sono sempre cinque le sedi Autos preposte sul territorio piemontese a rendere Autos una delle maggiori realtà automobilistiche italiane sia nell'ambito della vendita che nell'assistenza che nel servizio alla clientela. Tantissimi punti di forza di questa grande azienda che opera sul mercato da oltre 50 anni e iniziamo a parlare proprio della gamma Ford, una gamma sempre più completa, sempre più straordinaria. Qui presso il Centro Forstor sono presenti in anteprima tutti i modelli ed è proprio alla nuova stella di casa Ford che vogliamo dedicare l'appuntamento, che vogliamo dedicare l'apertura e la nuova EcoSport. Un veicolo straordinario, ingegnoso, piacevole sensazione di guida, dal design sempre più accattivante come tutti i modelli di casa Ford e soprattutto notevole il motore. Il motore è un motore EcoBoost che ha vinto per sei anni consecutivi il titolo del miglior motore al mondo. Mi ricordo un motore veramente fantastico con dei costi di gestione bassissimi, consumi molto limitati e fra l'altro con dei costi di manutenzione molto ridotti perché è un motore totalmente a bagno d'olio, quindi tutti gli organi principali si usurano veramente poco. È un motore pazzesco. Bene, abbiamo elencato quelli che sono gli elementi straordinari di questo nuovo veicolo di casa Ford, ma non è finita qui perché è anche molto molto interessante il prezzo ed è facile acquistarla qui da Autos con le sue super promozioni. Vi ricordo, se avete una vettura usata da un valore di almeno 4.900 euro, la nuova EcoSport sarà vostra con 11.900 euro. Pensate, con Idea Ford per la motorizzazione benzina avrete 36 quote da 139 euro, mentre per passare sulla vettura diesel occorreranno 26 euro in più al mese. Bene, Idea Ford per acquistare dunque la Ford dei vostri sogni, non solo la nuova arrivata come abbiamo appena elencato, la nuova EcoSport, ma anche tutti i modelli presenti proprio qui presso il centro Ford Store che sono tantissimi in pronta consegna e sono qui per essere provati su strada. Vi ricordo, la prova su strada è importantissima, soprattutto per la nuova EcoSport, ma anche tutta l'altra gamma. Vi ricordo, potete prenotare sia direttamente nel showroom, sia tramite Facebook, sia tramite il nostro sito autos.it, la prova su strada, gratuita. Bene, abbiamo parlato di nuovo, ma sono tantissimi i punti di forza della concessionaria Autos. Qui è possibile trovare non soltanto la gamma Ford per quanto riguarda le auto, ma anche tutti i mezzi commerciali perché Autos pensa anche a chi lavora. E' anche un vastissimo parco auto dedicato all'usato. Usato non solo a multimarca, usato anche di casa Ford, le cosiddette DOC 03, tutte con la garanzia Autos. Vi ricordo, nelle nostre vetture aziendali di casa Ford abbiamo sia le C-Max 1.5, Turbo Diesel, Titanium, sono molto belle perché sono molto accessoriate dal climatizzatore automatico, Navigation Touch System, retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega. Quindi sono vetture molto accessoriate, sono tutte del 2017, con prezzi vedrete, veramente molto convenienti. Abbiamo le Focus, abbiamo le C-Max, abbiamo le Mondeo, abbiamo le S-Max, il Galaxy, veramente di tutto. Insomma un 2018 nato sotto una buona stella, allora il tempo è poco, le auto sono tante, andiamo a scoprirle insieme. E iniziamo con le nostre Ford Fiesta, sono delle vetture aziendali, sono dei 44 kilowatt benzina, quindi vi ricordo sono delle vetture adatte anche per i neopatentati, sono del marzo del 2016, hanno dai 30 ai 40 mila chilometri, abbiamo di diversi colori disponibili, sono tutte delle 5 porte, con prezzi a partire da 8.600 euro. Passiamo poi alle nostre Ford C-Max, sono delle vetture aziendali di casa Ford, sono delle Dock 03, abbiamo diverse tipologie, iniziamo da questo grigio, 17.900 euro, la vettura è dotata di climatizzatore automatico, touchscreen, navigatore, è una vettura molto molto bella. Vi ricordo anche garanzia ufficiale Ford fino al 2022, ancora una Ford C-Max, questa volta 17.500 euro suo prezzo, la vettura al SYNC, il climatizzatore automatico e il cruise control, sempre vettura in garanzia ufficiale Ford fino al 2022. Ancora 17.500 euro per queste due C-Max, ce l'abbiamo anche di colore di giro scuro, vi ricordo SYNC, climatizzatore automatico e cruise control. Poi ancora C-Max, questa volta le vetture sono molto più accessoriate, hanno il SYNC 3 Touch Nav, retrocamera, sensori di parcheggio, cruise control, pochissimi chilometri, circa 20.000 euro, vi ricordo garanzia ufficiale Ford fino al 2022, 18.500 euro. Ce l'abbiamo di diversi colori, quindi nero, bianco e anche grigio scuro. Toyota Yaris Hybrid, ne abbiamo di diversi colori, sono tutte del 2017, hanno circa 15.000-16.000 km, sono introvabili nel mercato dell'usato, garanzia ufficiale Toyota con prezzi a partire da 17.400 euro. Nissan Qashqai dell'anno 2012 è un turbodiesel con un prezzo veramente molto piccolo, la vettura a circa 50.000 km, la proponiamo a 12.900 euro. Una bellissima cruise è una GPL, la GPL della casa, la vettura è matricolata nell'anno 2012 e la proponiamo a 8.900 euro. Ancora un GPL per questa Giulietta del 2015, la vettura a circa 58.000 km, la proponiamo a 14.800 euro. Nissan Pulsar è una turbodiesel, è una 1.500 DCI dell'anno 2015, la vettura ha percorso circa 40.000 km, la proponiamo a 12.900 euro. Molto bella questa Tipo 1.4 lounge dell'anno 2016, la vettura ha percorso 28.000 km e sarà vostra con 10.900 euro. Ancora una bellissima Toyota Auris Hybrid, sempre nel 2017, sempre in garanzia ufficiale Toyota, con prezzi a partire da 17.400 euro. Abbiamo anche numerose Toyota Aygo X-Play, quindi vetture molto accessoriate, climatizzatore automatico, cruise control, hanno la retrocamera, quindi veramente molto belle. Sono delle 1.000 benzina, hanno percorso circa 15.000 km, sono immatricolate tutte nell'anno 2017, le proponiamo a 8.300 euro per il passaggio di proprietà e ne abbiamo anche di diversi colori. Sempre Toyota, per questa Toyota Hybrid dell'anno 2016, la vettura ha percorso pochissimi chilometri, è sempre un hybrid, è sempre in garanzia ufficiale Toyota, con prezzi a partire da 13.000 euro per il passaggio di proprietà. Ce l'abbiamo anche grigio, nell'anno 2017 la vettura ha percorso circa 15.000 km, sempre in garanzia ufficiale Toyota, la proponiamo a 13.500 euro. E continuiamo, abbiamo una numerosa esposizione anche di S-Max, è molto bello questo S-Max, fra l'altro è un N1, quindi per chi lavora IVA è esposta, totalmente fatturabile. La vettura è immatricolata nell'anno 2016, a pochissimi chilometri, circa 20.000 è un full option e la proponiamo a 24.900 euro. Ancora una S-Max, sempre nell'anno 2016, la vettura ha percorso circa 20.000 km, è un 7 posti e la proponiamo sempre a 24.900 euro. Ce l'abbiamo anche grigio scuro. Molto molto bella questa Mondeo Business dell'anno 2016, la macchina del marzo 2016 ha percorso circa 50.000 km, è un cambio power shift nell'allestimento business, quindi con il climatizzatore e con il navigatore touchscreen, la vettura è molto bella, la proponiamo a soli 20.500 euro. E proseguiamo con questa Volvo V40 dell'anno 2014, un 2.000 turbodiesel, la vettura veramente molto bella, percorso circa 60.000 km, la proponiamo a 18.900 euro. Molto bello anche questo Partner, è una vettura, è un N1, la vettura è matricolata nell'anno 2015, è un full option e la proponiamo a 11.900 euro. Molto bello anche questo C3 Picasso dell'anno 2016, la vettura è un Euro 6, è un turbodiesel, ha percorso poco più di 20.000 km, la proponiamo a 12.900 euro. Molto bella anche questa Opel Corsa, la vettura veramente molto bella, la proponiamo a soli 7.500 euro. Ancora una vettura GPL per quanto riguarda questa Fiat Punto dell'anno 2011, la vettura ha percorso circa 60.000 km, la proponiamo a 6.900 euro. chilometri zero, chilometri zero di casa Peugeot, per questa Peugeot 208 Active, la vettura è una turbodiesel, è un 1.600 da 55 kilowatt e la proponiamo a 12.300 euro per il passaggio di proprietà. Ancora Peugeot chilometri zero, è sempre una 1.6 turbodiesel, la 55 kilowatt, comprezza a partire da 11.900 euro per il passaggio di proprietà. Deliziosa questa Abarth dell'anno 2014, la vettura ha percorso circa 60.000 km, la proponiamo a 13.600 euro. Ford B-Max dell'anno 2013, la vettura è un turbodiesel, è un 1.600, ha percorso circa 50.000 km, la proponiamo a 8.900 euro. Ancora una bella B-Max, questa volta la vettura del 2016 è un Euro 6 turbodiesel, è una 1.595 cavalli, la proponiamo a 12.800 euro. Ancora una Dock 03, vettura con garanzia ufficiale Ford fino al 2022, è sempre una 1.5 turbodiesel da 95 cavalli, la proponiamo a 12.500 euro. Molto bella anche questa B-Max con l'impianto GPL della casa dell'anno 2014, il suo prezzo 11.900 euro. Molto bene amici, da Autos, sempre un servizio full optional, dalla vendita al servizio all'assistenza, è un punto di riferimento assoluto per chi volesse acquistare la Ford dei propri sogni, ma anche un'autovettura usata, un mezzo commerciale, insomma da Autos potete trovare tutto ciò che desiderate, lo trovate in pronta consegna, con il servizio inclusivo nel prezzo. Sì, vi ricordo l'offerta pazzesca che abbiamo sulla nuova EcoSport, se hai un usato da 4.900 euro, la nuova EcoSport benzina 1000 sarà la vostra con soli 11.900 euro e con idea Ford piccole quote da 139 euro. Insomma, tanti vantaggi esclusivi per il 2018, per farvi portare a casa la vostra auto, tantissime novità presenti qui presso lo showroom, il centro forse di Moncalieri in corso Savona 39, tutta l'affidabilità, la cortesia di un gruppo che opera sul mercato da oltre 50 anni, non vi resta che venire anche solo per un caffè a visionare l'intera gamma, a visionare il parco auto usato e soprattutto ad acquistare la vostra Ford, perché vi ricordo che idea Ford non solo sul nuovo ma anche sull'usato. Anche sull'usato, soprattutto sulle nostre vetture aziendali di casa Ford, il C-Max, le Focus che abbiamo appena fatto vedere, è possibile fare idea Ford 36 mesi come sul nuovo. Ricordiamo anche il sito dove oltre a visionare tutto l'intero assortimento potete prenotare direttamente sia il test drive e perché no anche la vostra vettura. Assolutamente sì, è possibile sia prenotare il test drive sia la vettura e soprattutto potete seguire tutte le nostre offerte sulla nostra pagina di Facebook. L'indirizzo è sempre lo stesso, non potete sbagliarvi, Corso Savona 39 Moncalieri da Autos, la vostra Ford a Torino. Grazie a Mirko Trapani. Ciao Palma e ciao a tutti quanti voi. Grazie a voi per l'attenzione e come sempre lì nella regia.